Si è tenuto ieri sera liberi presso il ristorante Pane Arso un nuovo appuntamento enogastronomico del concorso piatti tipici del meteo volturno su iniziativa della Proloco di Cagliazzo che prevede la promozione e la valorizzazione dei prodotti stagionali, tradizionali e tipici del territorio. Il menu è stato oggetto di valutazione da parte delle due giurie, tecnica e popolare, molto apprezzati i piatti preparati dallo chef Enrico Sabino intorno al quale si era creato attesa e curiosità per la sua tipologia di cucina, tra l'altro molto apprezzata, riportata poi su prodotti tipici locali. L'esame è stato superato a pieni voti. Noi abbiamo sentito a margine dei lavori Maria Fiore della Proloco, organizzatrice, che ci ha spiegato gli obiettivi di questo evento. L'evento del concorso dei piatti tipici del medio volturno, giunto all'ottava edizione, è nato nel 2008 ed è nato per promuovere e per cercare i nostri piatti tipici, perché di fatti, siccome il nostro territorio è molto vicino all'ambiente partenopeo, risente molto dell'influenza della cucina tipica partenopea. Ma di fatti noi abbiamo delle produzioni specifiche, dei prodotti particolari e che ci appartengono come territorio. Per cui il lavoro che fanno le Proloco del territorio, del Consorzio del Medio Volturno, è volto ad individuare l'identità gastronomica del nostro territorio. Quindi i nostri prodotti, quegli autoctoni in particolare, abbiamo l'oliva caiazzana, pallagrello, casa vecchia, parlate solamente di alcuni prodotti, diciamo così, ma tante altre cose abbiamo. Abbiamo lo zafferano, di cui pochi conoscono l'esistenza del nostro territorio e molto ci sarebbe da lavorare. Abbiamo dei ceci, proprio qui, siamo nella zona del Monte Maggiore, praticamente, molto piccolino, molto particolare, molto saporito e tante altre caratteristiche. Il concorso si muove sul territorio, quindi su dieci comuni del Medio Volturno, che fanno capo poi, ai quali fanno capo le Proloco, che partecipano, che siamo partner di tutti quanti. E la proposta, appunto, che è nata nel lontanissimo 2008, ha portato a casa dei risultati significativi nell'attenzione che il mondo della ristorazione mette nel ricorrere agli ingredienti locali, cosa che, quando abbiamo iniziato, non era scontato. Da Liberi è tutto, Lorenzo Applauso per casertasera.it. Grazie.